Sono tre opere che danno una quantità, una qualità di opportunità ai cittadini di questa vallata, di questo territorio straordinario, perché il depuratore che sarà inaugurato a breve è un depuratore che dopo quello di borgheria migliora dal punto di vista ambientale, l'igienico-sanitario, tutta quest'area che ha oltre 50.000 abitanti. Il comune che sarà inaugurato probabilmente sabato prossimo, il 21, è un'opera che consente di avere una certa qualità della struttura, quindi questa è un'opera per i cittadini, perché avranno tutte le risposte sull'urbanistica, i lavori pubblici, le istruzioni, i servizi sociali, tutte qui in questa sede, manterremo i rapporti nelle colline di presenza del sindaco, faremo qualche giunta, consiglio, tutto quello che serve e poi la terza opera fondamentale, qui tutti i comuni confinanti non hanno un teatro, un teatro che sorgerà a Bottega di Vallefoglia, che si inaugurerà la prossima primavera, è il teatro Giovanni Santi, di 336 posti, quindi cambia radicalmente la qualità della vita di questa vallata, depurazione, operazione ambientale, igienico-sanitaria, di tutela della salute e dell'ambiente di questa vallata, una struttura nuova delle comune che ha una qualità elevatissima dal punto di vista del risparmio energetico, di tutti i temi della sostenibilità, e un'opera culturale per i gruppi musicali, i cori, le compagnie dialettali e poi si faranno anche alcuni spettacoli importanti dentro la rete del sistema degli auditorium per la musica, per il cinema e della rete teatrale delle marche.